È di due morti e quattro feriti il tragico bilancio di un gravissimo incidente stradale accaduto ieri sera sulla 18 Messina Catania. Il sinistro si è verificato intorno alle 22 tra fiume freddo e giardini in direzione Messina e ha coinvolto due auto sulla carreggiata in direzione Messina. A perdere la vita sono stati un 14enne e il padre di 48 anni di giardini Naxos. Quest'ultimo si trovava al volante di una delle due vetture coinvolte nel sinistro. Il 48enne è morto poco dopo essere stato trasportato nel pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Altre quattro persone sono invece rimaste ferite, alcune in modo grave. Tra i feriti anche alcuni minorenni. Ancora ignota la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, l'elicottero dei sanitari del 118, l'ANAS e la polizia stradale. L'autostrada è stata chiusa nel tratto interessato per permettere l'intervento dei soccorsi e rilievi. Si tratta del secondo incidente mortale nel messinese in poche ore. Nel primo pomeriggio di ieri infatti sull'autostrada, Palermo-Messina, un fuoristrada che stava trasportando un'imbarcazione, è finito giù da un viadotto poco dopo lo svincolo per Milazzo, all'altezza di Pace del Mela, in direzione di Marcia Messina. L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo a una delle due persone a bordo che è deceduta sul colpo. L'altra è stata estratta viva dalle lemiere e affidata alle cure del personale medico del 118. Sono ben sette le vittime di incidenti stradali in Sicilia in poco meno di una settimana. Nel weekend infatti si sono registrati cinque drammatici incidenti stradali con altrettanti morti. Domenica sera a Palermo un ragazzo di 22 anni è morto dopo aver perso il controllo del suo scooter. A Cefalù un 74enne ha perso il controllo della sua moto nella strada statale 113 ed è finito sotto un'auto. Sempre nel fine settimana un 36enne di Campobello di Mazzara ha perso la vita con la sua moto di grossa cilindrata. Sulla 19 un 38enne di Castel di Iudica alla guida di un'auto è andata a sbattere contro il guardrail. Infine un 29enne è morto a Gela mentre tornava da Catania con la sua auto che si è schiantata contro un camion.